Pier Paolo e Maria Pia sono stati ospiti del nostro reparto e un giorno, mentre ci trovavamo nella sala giochi, hanno improvvisato una canzone. Ma il livello era altissimo e erano veramente degli artisti, erano degli artisti in corsia e allora io dissi perché non possiamo dare a questi ragazzi l'opportunità di esprimersi su un palco? Nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. La nostra vita, la nostra vita, la nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita.